Grandi affari, promozione del vaccino e green pass a portata di mano. Dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia, torna a fanno la fiera di San Bartolomeo, ma in totale sicurezza. In zona Sassonia, da martedì 24 a giovedì 26 agosto, si svolgerà il tradizionale evento nato nel 1457, quando la città era ancora soggetta al dominio della Signoria dei Malatesta. Saranno più di 250 gli ambulanti che proporranno i prodotti caratterizzando il lungomare con profumi e sapori tipici della manifestazione. Si potrà accedere alla fiera attraversando i cinque barchi presidiati dalla protezione civile, via Battisti, via Cavallotti, via Le Ruggeri, via l'Adriatico e dal lato del porto in prossimità del mercato ittico. Per partecipare, però, sarà obbligatorio, anche per gli ambulanti, avere il certificato verde. Ovviamente torna con tutte le condizioni di sicurezza previste, con tutte le comunicazioni inviate questi giorni dal Viminale, dateci dalla Prefettura. Quindi all'interno nei varchi metteremo dei cartelli segnalatori dove si indica che il Green Pass per sostare all'interno è obbligatorio. Non saranno fatti dei controlli all'ingresso, ma potranno essere fatti dalle forze dell'ordine dei controlli a campione all'interno stesso della fiera. Non ci sarà l'obbligo del Green Pass per coloro che dovranno raggiungere strutture alberghiere, residenze, stabilimenti balneari, attività economiche in genere, perché ovviamente la permanenza in queste attività economiche, ma semplicemente per poter andare nell'abitazione, ovviamente non vige l'obbligo del Green Pass. Ecco, saranno poi i controlli a campione all'interno per determinare la presenza delle persone consona al momento. In occasione della fiera il comune di Fano e l'area Vasta 1 hanno potenziato la campagna vaccinale con la presenza del camper mobile che sarà parcheggiato davanti all'ufficio turismo in Viale Battisti. L'età minima per vaccinarsi è di 12 anni e i minorenni devono essere accompagnati da un genitore. I moduli invece potranno essere compilati direttamente sul posto. La fiera di San Bartolomeo avrà due tappe della campagna itinerante con camper, con mezzo mobile, che si concluderà il 3 di settembre. I giorni scelti sono martedì 24 e giovedì 26, dalle 18 alle 22, in questa sede dove ci troviamo noi. Il camper sarà piazzato fuori e come per tutte le altre sedi saranno somministrate esclusivamente prime dosi a tutte le fasce di età aventi diritto, vaccino Janssen sopra i 60, vaccino Moderna o Pfizer sotto i 60. Non è necessaria la prenotazione, basta la tessera sanitaria, vacciniamo anche turisti residenti domiciliati a Fano appunto per motivi di vacanza e ripeto non faremo seconde dosi. Grazie a tutti.